Un milione e mezzo di euro per il memoriale alle vittime di Marsinelle da realizzare a letto manopello ed un milione di euro per il completamento del Central Park di Lanciano, intitolato alla memoria del compianto vice sindaco di Lanciano Pinovalente. Questa mattina in regione Abruzzo a Pescara sono state messe le firme sugli atti di concessione per i due progetti previsti nel masterplan. Per il progetto di Lanciano, tra l'altro, c'è in ballo anche un'inchiesta della magistratura sulla quale il presidente D'Alfonso si esprime così. Tranquillo e poco, sono interessato alla conclusione di questo accertamento poiché le attività di accertamento fanno e danno luogo all'emersione della verità. Finanziamo, progettiamo e realizziamo un Central Park a Lanciano. Io dissi con l'aggiunta ci faremo carico di reperire le risorse. Ad un primo atto che diede in carico alla direzione generale della regione di reperire le economie e le risorse ha fatto seguito un secondo atto e oggi la firma della concessione finanziaria. Il sindaco di Lanciano ha parlato di un'opera strategica per la città di Stretto. Può essere la continuazione del progetto di mobilità lenta di ciclovie che disegna una città diversa, ha ricordato Pupillo. Ci sarà una ciclovia che ripercorrerà il percorso dell'ipodromo, dell'anello dell'ipodromo, che si ricollegherà alla ciclovia di Via del Mare e di Via Renzetti che la regione ci ha finanziato due anni fa e quindi questo rientra nell'ambito della mobilità lenta che Lanciano sta sviluppando all'interno del suo territorio e poi ovviamente spazio per giochi per i bambini, per possibilità di aggregazioni, per manifestazioni che sono molto frequenti a Lanciano come le feste di settembre, il Mastro Giurato che saranno ospitati in questo spazio che sarà rigenerato entro l'anno prossimo. D'Alfonso ha anche assunto un impegno di destinare le economie derivanti dai 130 milioni di euro stanziati per il Digital Divide affinché Lanciano diventi una città ad elevata velocità digitale.